c'è aria di dolce gildarella ecco qua allora qua 500 grammi di farina 00 e tre belle uova eccole qua uno due e tre ecco qua vedete guardate che belle che sono ecco qua vedete cominciamo a sbattere allora 150 grammi di zucchero eccolo qua è bene ecco qua una bustina di vanillina vanillina scusate mi è sei perdonata dai poi un pizzico di lievito per dolci ecco qua un pizzicozzo questa è la mezza bustina ha fatto la metà della mezza va bene ecco qua poi se volete ci potete mettere limone arancio ma per me no ecco poi 100 ml di olio e vai bene va bene ecco qua oddio sta farina è un pizzico di sale ecco qua ecco qui ecco fatto vedete ecco fatto mi schia bene eh gildare vai vai andiamo tanto mi piace non sto parlo ah ecco della tiè a preservia eh raga e namo se serve io ci aggiungo un goccettino di acqua qua qua vedete com'è venuta bella adesso preparo marmellata guardate per farcire dei ravioli perché io adesso farò dei ravioli dolci ma ecco qua ecco qua allora marmellata questa è d'albicocca e pesca o albicocca sono quelle più adatte per questi ravioli e sono proprio buoni poi qui ho tagliozzato 280 grammi tra noci e mandorle vedete mandorle e noci che adesso vado a mettere qui dentro va bene andiamo vai poi 40 grammi di pinoli eccoli qua già l'avevo controllati eh e qui 50 grammi e 60 grammi di uvetta che ho messo con la strega vedete a bagno con la strega si e vado a mettere vai meschia tutto wow oddio mio che impasto qua eh già c'è la colina ma è vero ci sta qua vedete vedete e adesso vado a impassare tutto quarto dopodiché Dopodiché preparo la sfoglia e facciamo i ravioli, ripieni con finoli, mandorle, noci e uretta passa, va bene? E marmellata, e marmellata di albicocche che io adoro tantissimo. Guardate un po' qui, che meraviglia, mamma mia, aggiungo altri due cucchiai sempre di marmellata di albicocche, ecco, anzi, chi è? Tre, va bene? Allora, il barattoletto che avevo votato prima era 370, ecco, no, perché a marmellata ci deve stare, ok? Tanto poi vi lascio tutte le dosi scritte per bene in alto al video, ok? Vabbè, considerate 400 grammi, ma, di marmellata. Poi, vedo vedere quello a voi, in base a quanti ravioli fate, ecco. E' bello che è, mamma mia. Va bene, amori miei? Non maniereste così col cucchiaio, eh? Un altro che, non mi fa questa sfoglietta, vai, Gilda, adesso. Si parte! Dai, va. Vale! Ah! Adesso, ah, devo prendere il coso che fa i ravioletti. Se parte con la sfoglia, eh? Ecco. E dai, eh? Ecco qua. Adesso a due. No, manco ce vedo qua io a tre. Ah! Ah! Vediamo, eh? A tre. Ai, 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 ai. Scusate, mi vede? Allora, fammo una passata. Andiamo con il ravioletto, vai. Ecco qua. Vedete? Mettete. Ecco fatto. Io faccio carichi, che a me mi piacciono carichi. Eh, beh, certo, eh. Eh, carilla. Eh, beh, scusa, eh, quando mozzichi ci deve stare dentro, eh, eh, impasto massiccio. Scusa, eh. Certo. Che fai? A me non mi piacciono, quando vai a mozzicare, poi dentro non c'è niente. Certo. Scusa, eh, la fammi i biscotti, o no? Vai, Girdere, dai. Ecco qua, il braciole, eh. Ah, ops. Ecco qua. Come va qua, Girdere? Eh, stai a andare, eh, tiè, guarda un po'. Mamma mia. Che buono. Ecco, eh. Mamma, vede il suo ravioletto, va, tiè. Da un po', Girdere. È stanca, Girderella? No. No, mica. Ma un pochetto. Ma tu domani sei d'ordine. Poco, poco. Eh, Girdere? Un po', certo, eh. Fai festa domani, Girdere? Sì, mia. Eh. Eh, Girdere? Eh. Mamma mia, ragà, non potete capire quanto sono buoni questi. Poi, lo sapete quanto si mantengono? Tanto. Si mantengono proprio tanto. Perché non è che c'è ricotta, che c'è sta roba. Certo, che se mantengono tanto, se non vi magnate tutti e subito. È normale. Ma penso che sia un po' difficile, eh. Eh, Mico, so qua, tiè. Ti ha ragione. E io non ci avevo pensato. Belli, guardate come so carichi, tiè. Poi, vedi, io li faccio così, eh. Uno, uno rotondo, uno quadrato. E certo, questi così. Che si so carichi. Nonna pure, quando li faceva? Eh. Uno più grosso, uno più piccolo. Eh, esatto. Ecco qua. Ma quando li magnate? Ma voi devo dire? Ecco. Sama frigge, Girdere? Eh, sì. Ah, e dai, e vatti, eh. Vedete? Eccoli, eh, piano piano. Eh, sì, questi coccati a piano piano, perché se se rompono... Ah, senti come fricolano, tiè. Ma piano piano. E se cuociono. Ecco qua. Ah, tatatatà, tiè. Ah, guardate un po' qua. Mamma mia, guardate che ravioli dolci. Mamma mia, questi sono... Sono zucchero, so, eh. Una bontà. Tiè. Mamma mia. Aspetta. Ah, eh. Medica. Chi è? Che spettacolo. Allora, bando alle chiacchiere. Qua. Ve voglio far vedere. Vai, vai, cittadè. Vai, faccio vedere. Faccio vedere. Guardate un po'. Vai. Guardate che roba, che spettacolo. Spettacolo. Guardate. Dai, faccio vedere, Gildare. Perché? Due pozzighetti, vai, assaggia. Ma mi ingrasso. Sto sempre a magna io. Guardate. Vai. Mamma mia. Oddio. Buono, Gildare? Buono, Gildare? Mamma mia. Buono, Gildare? Dai, manda un bacetto a tutti, va, Gildare. Sennò qua mostramo tre ore a magna. Eh, Gildare? Dopo sì, finimo tutti, eh. Buono, buono, eh. Ciao, belli miei.